Allora per far capire ai nostri amici che noi non ci muoviamo in un ambito così di invenzioni di vario genere, ma ci muoviamo legati strettamente a una documentazione molto chiara, faremo vedere tutta una serie di volumi nei quali ci sono scritti dei concetti che ci servono a noi per chiedere ai nostri amici cosa sta effettivamente succedendo. Ho letto i commenti che ci mandano ultimamente e molti dicono che ci hanno sostituito al telegiornale. Allora a proposito, hai detto una cosa molto giusta perché bisogna ripetere quello che ha detto l'ex Presidente del Consiglio D'Alema che quando gli hanno chiesto se lui leggeva i giornali e lui ha detto per carità, io i giornali non li leggo per niente perché essendo io giornalista so cosa scrivono i giornalisti, i quali se arrivano a dire il 30% delle verità è già qualcosa. Noi sappiamo bene che non è. Nemmeno il 30%, nemmeno il 30%. Molto meno, forse il 2 o il 3%. Allora adesso ci leggiamo alcune cosette. Primo libro. Bello. Pagina 90. Qui ci sarebbe tanto da leggere, però noi stiamo qui a fare una specie di cernita di cose più interessanti. Scrive quest'autore. Per raggiungere gli obiettivi delittuosi avanzati dall'imperialismo è necessario preparare nuovi uomini, automi senza opinioni, moralmente vuoti, esecutori della volontà altrui, educati alla violenza. Uno come Monti, un androide. Certamente, ecco qua. Descritto in maniera molto chiara. L'ideologia degli sfruttatori è sempre stata incentrata sulla degradazione dell'uomo. Sin dai tempi remoti si praticava portare l'uomo alla degradazione, ad una condizione semi-bestiale per instaurare il dominio di un'elite sul resto dell'umanità, per ottenere il potere e le ricchezze. Basta vedere quello che hanno fatto gli inglesi, per esempio, in occasione della ribellione in Cina a fine 1800, quando c'era l'imperatrice, attorno al 1890, la rivolta dei boxer. Questa è stata la rivolta dei boxer, repressa con grande crudeltà, da tutti, compresi noi italiani. Certo, lo so, lo so. Ma la cosa ancora più brutta è quando... Era la condizione di schiavismo intellettuale, morale e fisico, indotto con le droghe da parte dei conquistatori inglesi. Esattamente, ecco lì, la guerra dell'opio. Certamente. Non solo, ma c'è stata anche la ribellione dei Cipois, la ribellione 1857, repressa con una crudeltà incredibile. Milioni di morti indiani, non qualcuno, milioni, e passano per essere delinquenti solo i nazisti. Esattamente. I nazisti passano per essere delinquenti, che hanno ammazzato non si sa quanti, ma non certamente intenzionalmente. Esattamente. No? E' noto che ogni teoria... Morti in guerra, che è una cosa molto diversa. E' noto che ogni teoria deve avere una sua applicazione pratica, facendo degradare gli uomini, instillando in loro idee di odio contro l'umanità, affinché siano sempre pronti a quelle misure estreme che la reazione intende intraprendere contro il progresso, l'imperialismo è costretto ad offrire alla gente un certo ideale di società, un'illusione o un surregato di felicità. La società delle uguali possibilità, la società del benessere, la società industriale, la società libera. Quanti termini sono stati inventati dagli apologeti della società capitalistica? Vi sembra di sentire quello che ha detto la nostra amica Chienghe? Perché la Chienghe ha ripetuto stancamente quelle parole che probabilmente ci sono state impresse nel cervello al momento opportuno. Perché eccolo qui il discorso. Lo disse molto chiaramente quest'autore. Proseguiamo. Proseguiamo. La trasformazione della democrazia. Ma chi l'ha detto che la democrazia è la migliore... No, vabbè, qui si parla di un regime che noi chiamiamo democrazia e che si sta sotto i nostri occhi trasformando. Il programma della pace sociale è rivolto anche contro il pericolo di una valenza emancipatrice. se non che gli stessi mezzi pacifici devono essere ulteriormente mediati. Panis et circenses. Il consumo e il tempo libero. Non bastano in un mondo dinamico in cui continuamente possono scoppiare delle crisi. E il discorso è lo stesso. No? La terra di tutti. No? Questo discorso fatto davanti agli sbronzi di Riace. Eccolo qui. No? Le parole di pace. Per tenere buona la popolazione affinché non si ribelli chiedendo quello a cui ha veramente diritto. Ma proseguiamo, siccome noi ci muoviamo nell'ambito di cose ben precise. Bello, bello, questo me lo devi dare. Lo scannerizziamo? Questo è stato pubblicato a cura del Parlamento italiano. Non diritti, ma doveri dell'uomo. Allora, qui abbiamo tante cose che noi potremmo riferire e che ovviamente noi oggi in questo momento non possiamo leggere tutta quest'opera che è per noi fondamentale. Attenzione cosa dice Mazzini in riferimento ai bolsevici dell'epoca. Ma il disegno di quei che, limitandosi alla questione economica, chiedono l'abolizione della proprietà individuale e l'ordinamento del comunismo... Tocca l'estremo opposto, nega l'individuo, nega la libertà, chiude la via al progresso e impietra, per così dire, la società. Non ci può essere uomo libero senza diritto di proprietà. Non è detto che uno sia proprietario di un latifondo, perché noi siamo i primi a distruggere il latifondo, ma devi distruggere il latifondo. Devi distruggere le proprietà delle multinazionali che sfruttano i popoli del terzo mondo. Furio Camillo e il senato romano, appena vinti i veienti, fecero l'assegnazione a ciascuna famiglia, clan, che aveva partecipato alla conquista di Veio e assegnò 3500 iugeri a ciascun legionario. E non di più. E non di più. È la piccola proprietà che fa l'uomo. E ripeto, la condizione dello schiavo è la condizione dell'individuo che non ha proprietà. Nel momento in cui tu sei proprietario della casa dove ragioni... Ragioni in maniera diversa. Hai un vincolo, hai una grande ancora morale e anche di interesse economico. No, allora, siccome questo è quello che dice Mazzini, Mazzini ha perfettamente ragione. Probabilmente la Chienghe che viene dal Congo, che è stata trattata da schiava fino all'altro ieri, non ha questi concetti e non riesce a capire che può esistere la proprietà, che anzi la piccola... Parallelamente alla libertà. Appunto. Ma non esiste la libertà senza la proprietà. Perché l'uomo senza proprietà è uno schiavo. È la condizione dello schiavo. La formula generale del comunismo, continua Mazzini, è la seguente. La proprietà da ogni cosa che produce, terre, capitali, mobili o immobili, strumenti di lavoro, sia concentrata nello Stato. Lo Stato assegna la sua parte di lavoro a ciascuno, lo Stato assegna a ciascuno una retribuzione, secondo alcuni con assoluta uguaglianza, secondo altri secondo dei suoi bisogni. Noi l'abbiamo visto. Che cos'è stato il bolcevismo? Il bolcevismo è stata l'applicazione di questo criterio, nel quale alla fine per Stato in realtà c'era la burocrazia statale degli iscritti al partito comunista russo, che comandava su tutti. Gli altri erano tutti schiavi. Dobbiamo renderci conto. Questo è stato scritto in un'epoca in cui bisognava avere il genio e l'intelligenza di Mazzini per capirlo. Gli altri continuano a rimanere dei coglioni e hanno continuato a dare ragione non solo ai comunisti, ma soprattutto oggi ai cattocomunisti, che hanno unito la truffa del comunismo ideologico. È il reggiro del cristianesimo. È il reggiro del cristianesimo. Concludiamo. Dice Mazzini, questa se fosse possibile sarebbe vita di castori, non di uomini. La libertà, la dignità, la coscienza dell'individuo spariscono in un ordinamento di macchine produttrici. Non c'è più l'anima dell'uomo. Cosa succedeva nella Russia bolsenica? Che chi si opponeva lo giudicavano matto. Chi voleva difendere la propria integrità, la propria proprietà, proprio se stesso... C'è per quello anche gli americani, vedi Elza Brown. Esattamente, esattamente. Però in Russia era la prassi. Allora ti opponi alla società del gregge, alla società dei castori, sei un matto. Il fatto che poi sia tutto crollato miseramente in un mondo di miseria, di squallore, dimostrava che quelle persone, tutto, erano forche matti. Erano matti quelli che pretendevano di comandare, di dominare... Condizionare. Per conto di lorsignori, perché come ormai è stato ampiamente dimostrato, erano lorsignori che si servivano del bolsevismo per controllare le popolazioni dell'est europeo. Proseguiamo. Questo è una cosa di un interesse stratosferico. è un libro del 1930, in cui sono state pubblicate tutte le costituzioni del mondo fino ad allora. Ovviamente non possiamo leggere tutto. Ah, a proposito, no, io devo dire una cosa. Che tutti questi cavolo di giornalisti che si presumono e pretendono e arrogano il diritto di sapere e di diffondere la conoscenza, che in realtà non sanno assolutamente nulla, uno dei cardini che vengono stimolati a propalare in giro per le menti contorte di quelli che li ascoltano e li leggono, vengono condizionati a dire che la Costituzione italiana è la più bella del mondo. Ma si sono mai andati a leggere una qualunque altra Costituzione? No, io voglio citare soltanto la Costituzione venezuelana che è stata fatta una decina di anni fa da Chavez. Non deve essere eletta. Non deve essere eletta perché se la leggessero e vedessero che cosa si enuncia sulla Costituzione venezuelana non potrebbero più dire che la Costituzione italiana è la più bella del mondo. Se avessero un minimo di costituzione critica e anche estetica, cosa che questi poveracci non hanno e io sfido chiunque di costoro, soprattutto i giudici costituzionali, a dirmi se conoscono veramente la Costituzione italiana. Ma andiamo avanti. Leggiamo allora delle carte dei diritti una cosa che riguarda la Francia. Dichiarazione dei diritti dell'uomo adottata dalla Convenzione nazionale il 29 maggio 1793. Quella che abbiamo citato poco fa. La legge, articolo 16, la legge non deve assegnare che pene strettamente ed evidentemente necessarie. Le pene devono essere proporzionate al delitto e utili alla società. Ma guardate con quale profondità... Andatelo a dire ai magistrati italiani. Anche il Codice Cittadiano lo dice, lo dice. Che la pena deve essere commisurata all'entità. Ma c'è stato preso da questo. Articolo 17. Il diritto di proprietà consiste in ciò che ognuno è padrone di disporre a suo piacere dei suoi beni, dei suoi capitali, delle sue rendite e della sua industria. Articolo 18. Nessun genere di lavoro, di cultura, di commercio gli può essere vietato. Può fabbricare, vendere e trasportare ogni specie di prodotti. 19. Ognuno può impiegare i suoi servizi, il suo tempo, ma non può vendere se stesso. La sua persona non è una proprietà alienabile. Ripetiamo, la sua persona non è proprietà alienabile. Per cui, cara Chienghe, tu vallo a dire ai tuoi padroni delle multinazionali, che sono quelli che stipendiano i vari partiti, non solo i partiti, ma gli schiavisti che portano questi schiavi, questi moderni schiavi, sulle coste italiane. Sappiamo benissimo che oramai è un'organizzazione internazionale che gestisce il giusto. E poi, a cosa devono servire questi schiavi che tornano a scalzare il sistema nazionale. Esattamente, alla creazione di quello che, in termini più chiari, si chiama la distruzione del cemento unificatorio nazionale. Questo è l'ultimo. Nessuno può essere privato della minima porzione della sua proprietà senza il suo consenso, se non quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga evidentemente e sotto condizione di una giusta e previa indennità. 21. Nessun'altra contribuzione può essere stabilita che per l'utilità generale e per sovvenire ai bisogni pubblici. Voglio dire una puntualizzazione. A questo proposito, in Italia, solo nel 2001 è stata emanata il decreto legislativo 325 e 327 del 2001, in cui si recepiscono queste cose qua, e cioè sul giusto ed equo risarcimento dell'espropriazione del privato. Tu pensa che abbiamo messo 215 anni. Ma abbiamo questo. Ripeto, nessun'altra contribuzione può essere stabilita che per l'utilità generale e per sovvenire ai bisogni pubblici. Quindi tu, Monti e Compari, Napolitano, Monti, Compari, Letta e altri cialtroni del genere che avete portato via i soldi attraverso le tasse per darli alle banche, siete completamente fuori legge, siete degli assassini e delinquenti. Abbiamo detto in tante occasioni. Tutti i cittadini hanno il diritto di concorrere personalmente o per mezzo dei loro rappresentanti allo stabilimento delle contribuzioni, di sorvegliarne l'impiego e di farsene rendere conto. È quello che noi stiamo facendo regolarmente con le nostre denunce. proseguiamo. Questo è un libro di cui vorremmo che i nostri amici leggessero qualcosa. La conquista silenziosa. Eccola qui la conquista silenziosa. Non la fanno con le armi. Non la fanno arrivando con le truppe della Nato. Il colpo liquido, il colpo diluito. La fanno mandando chienghe, con quest'aria buonista di negretta. Sai che sembra? La mami di via col vento. Esattamente, bravissimo. Un po' più giovane. Esattamente. Così vediamo spuntare i germogli dell'ultimissima fase della conquista silenziosa. Le imprese che prendono posizioni contro i governi in carica. Ma è la stessa cosa. Se io sono un'impresa multinazionale che prende posizioni contro i governi in carica, come hanno fatto nel centro Sud America, alle quali fortunatamente i popoli si sono ribellati, o se sono una che all'interno di una compagine ministeriale prende posizioni contro le leggi dello Stato, è la stessa cosa. Le imprese che prendono posizioni contro i governi in carica, accelerando attivamente i programmi della politica, surrogando per i fallimenti dei politici. Le compagnie stanno cominciando a porre rimedio ai mali sociali e a dispensare giustizia dove lo Stato manca di farlo. A gestire situazioni di degrado ambientale mentre i governi sembrano paralizzati. A difendere i diritti umani in quelle parti del mondo dove nessun politico sembra in grado di intervenire. E' chiaro? Quindi oggi non solo ci troviamo in una situazione che noi abbiamo ampiamente descritto, ma ci troviamo anche in una situazione in cui le grandi multinazionali, con lo sputtanamento totale della classe politica che è comunque al loro servizio, questa è tipica della condizione del servo, dello schiavo, e surrogano, prendono loro il posto, amministrano loro la giustizia e esautorano, esautorando il potere politico, anche il potere dei cittadini che hanno votato. Questa è la logica del sistema. Noi abbiamo molte altre cose, comunque le facciamo vedere. Questo è veramente qualcosa che noi dovremmo commentare, perché gli stessi preti non lo conoscono. No, no, sì, a parte pochissimi lo sanno, però loro se ne avvalgono, perché qui questo è diritto canonico, è chiaro? Se ne avvalgono strafottendosene della legge italiana. Andassero a proporre le loro cose, è capito? Come noi le proporremo a loro, è capito? Ecco, va bene? Chi conosce il diritto canonico sa che nel diritto canonico è rispettata la loro libertà, capito? Quindi rispettassero la nostra. Questo dove nascono veramente le norme di legge italiane. Cioè dai fatti, dalla concretezza dei fatti. L'abbiamo detto prima. Su questo diremo quanto dovremmo dire. In conclusione, questo è il diritto europeo. Che cosa è? Resta qualche minuto? Un minuto. Diritto europeo. L'Unione rispetta articolo F F Quindi Si troviamo qui Trattato sull'Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 L'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi stati membri i cui sistemi di governo si fondono sui principi democratici L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e con questo chiudiamo Bene, ciao a tutti al prossimo video entro breve